E' l'iniziativa di 180 lavoratori tessili della ex Miroglio nel Tarantino, il servizio di Michele Pisani. Sei un investitore serio, motivato, alla ricerca di idee e soluzioni per la tua azienda? Bene, questa potrebbe essere l'occasione giusta per te. Uno spot di tre minuti per descrivere le caratteristiche dell'ex stabilimento Miroglio di Ginosa agli acquirenti interessati alla sua reindustrializzazione. Lo hanno realizzato e postato su internet alcuni dei 181 ex dipendenti delle officine tessili in mobilità dal primo maggio scorso. Un'iniziativa singolare che segue di poche settimane la cessione dell'impianto dalla società piemontese Filatura e Tessitura di Puglia al Comune Ionico. Non era mai successo prima in Italia che un privato consegnasse le chiavi della propria azienda a un ente pubblico. Oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente della fabbrica, nel video i lavoratori ricordano i potenziali acquirenti che riceveranno incentivi dalla regione per l'acquisto di macchinari e la formazione degli operai da reimpiegare nella nuova struttura. Caro imprenditore, attendiamo fiduciosi che le nostre strade possano incrociarsi, consapevoli che questa non può che rappresentare un'occasione unica. Scommettiamo insieme allora nel tuo e nel nostro futuro. Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbe essere convocato entro la metà di questo mese.